Ciao, bentornato. In questo video parliamo di onde che si propagano nello spazio, come possono essere le onde sonore o le onde elettromagnetiche. Vediamo una proprietà fondamentale di questo tipo di onde, ovvero l'intensità, che indicheremo con la lettera I maiuscolo. Che cos'è l'intensità di un'onda? Allora, immaginiamo di avere una certa sorgente che emette delle onde rappresentate da queste linee nere. Ricorderai che un'onda è trasporto di energia senza trasporto di materia, quindi da questa sorgente fluisce energia. Allora, l'intensità è quanta energia attraversa un'area unitaria nell'unità di tempo, ovvero nelle unità del sistema internazionale è l'energia che ogni secondo attraversa un metro quadro. Quindi in formula possiamo scrivere l'intensità di un'onda come l'energia che attraversa una certa area fratto l'area stessa e fratto il tempo che consideriamo. L'unità di misura per l'intensità sono watt su metro quadro, infatti il watt è l'unità della potenza che è energia fratto tempo, cioè già ho il fratto secondi, i metri quadri è l'unità di misura dell'area. Un aspetto fondamentale quando si parla di intensità di un'onda è capire come varia al variare della distanza. Allora, ti faccio questo semplice esempio. Immagina di fare colazione, hai una vaschetta di marmellata e la spalmi tutta su una fetta biscottata, avrai un certo strato di marmellata. Un tuo amico prende sempre una vaschetta di marmellata ma la spalma su quattro fette biscottate anziché una sola. È chiaro che il suo strato sarà quattro volte più sottile, ogni fetta avrà un quarto della marmellata che tu hai messo invece sulla tua fetta. Ecco, per l'intensità vale la stessa cosa. Immaginiamo di avere una sorgente puntiforme e ogni secondo una quantità E di energia attraverso una certa superficie. Se raddoppiamo la distanza, questa superficie è diventata quattro volte tanto, come si può vedere dal disegno. Ora, chiaramente ognuna di queste quattro aree riceverà nello stesso tempo un quarto dell'energia e dato che l'intensità è l'energia che attraversa ogni aree unitaria, anche l'intensità è diminuita di quattro volte, quindi avremo I diviso quattro. Se triplichiamo la distanza, allora ogni quadratino riceverà un nono dell'energia e quindi l'intensità è diminuita di nove volte, un nono per l'intensità iniziale. Ad esempio, se tu stai ascoltando musica e a una certa distanza l'intensità è di 100 millivatt per metro quadro, se tu raddoppi la distanza diventa 25 millivatt, cioè un quarto di quella iniziale. In formula possiamo scrivere che l'intensità è direttamente proporzionale a 1 fratto r alla seconda, dove r rappresenta la distanza dalla sorgente. Detta P, la potenza è emessa dalla sorgente, cioè l'energia emessa dalla sorgente ogni secondo, se quest'onda si sviluppa in modo uniforme in tutte le direzioni, allora l'intensità può essere calcolata come il rapporto tra la potenza, quindi già energia fratto tempo, e l'area totale che non è altro che la superficie della sfera, che è 4π raggio alla seconda. Però questa formula può essere utilizzata solo se il suono, come il suono e la luce, si sviluppa in modo uniforme in tutte le direzioni. Ad esempio quando una persona parla, se la bocca è rivolta ad esempio verso destra, allora l'intensità sonora verso destra sarà un pochino più forte dell'intensità alle spalle della persona. Per quanto riguarda più nello specifico le onde sonore, ricordiamo che le onde sonore sono onde longitudinali di pressione, quindi possiamo calcolare l'intensità come la pressione massima, cioè la differenza tra la pressione all'equilibrio e la pressione massima raggiunta, fratto due volte la densità del mezzo, quindi la densità dell'aria se sono onde che si propagano in aria per, sempre a denominatore, la velocità dell'onda. Sempre in riferimento alle onde sonore concludiamo questo video chiarendo quale è la differenza tra l'intensità sonora, che è quello di cui abbiamo parlato fino adesso, che si misura in basso metro quadro, e il livello di intensità sonora. Il livello di intensità sonora fa riferimento alla sensazione sonora, la quale dipende sì dall'intensità sonora, ma non in modo lineare, la sensazione non varia in modo lineare, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che se raddoppia l'intensità sonora non raddoppia anche la nostra sensazione di rumore. Per capire meglio vediamo questa tabella dove ho riportato alcuni rumori tipici. Allora, il minimo rumore udibile è solamente 10 alla meno 12 Watt su metro quadro. Udibile se è una frequenza di 1000 Hz, che è quella che sentiamo meglio. 10 alla meno 12 Watt su metro quadro è una quantità piccolissima, vuol dire un millesimo di miliardesimo di Watt su metro quadro. Se andiamo a un rumore di una normale conversazione, abbiamo già 10 alla meno 6 Watt su metro quadro quadro, che è un milione di volte più grande di 10 alla meno 12. Eppure la nostra sensazione non è così intensa, sebbene sia un milione di volte più grande, cioè come passare tra la massa di un grammo e la massa di una tonnellata. Questo è un milione di volte più grande, eppure noi lo avvertiamo appena. Un locale rumoroso sono ancora 100 volte più grande di una conversazione, perché sono 10 alla meno 4 Watt su metro quadro. E se arriva a 1 Watt su metro quadro, per un forte urlo nell'orecchio, siamo sulla soglia del dolore, quando siamo a 10, diciamo dolore intenso, 10 Watt su metro quadro, rottura del timpano, 10.000 Watt su metro quadro. Quindi vedete che c'è una grandissima variabilità. Per questo motivo si esprime il livello di intensità sonora con una scala logaritmica. Quindi definiamo il livello di intensità sonora come 10 volte per il logaritmo in base 10 di I fratto I con 0. Che cosa vuol dire? I rappresenta l'intensità sonora che il nostro orecchio percepisce. I con 0 è proprio quel minimo rumore udibile. Ad esempio, per una normale conversazione avremo 10 alla meno 6, va su metro quadro, fratto 10 alla meno 12, va su metro quadro, che fa 10 alla sesta. Quindi a questo punto si calcola il logaritmo in base 10 di 10 alla sesta, che fa 6, e poi si moltiplica per 10, si ottiene 60. E questi sono i decibel. Quindi 60 decibel è il rumore di una normale conversazione. Per chi non ha dimestichezza con il logaritmo in base 10, spiego in due parole. Il logaritmo in base 10 di 100 vale 2, perché 100 si può scrivere come 10 alla seconda. Il logaritmo in base 10 di 1000 vale 3, perché si può esprimere come 10 alla terza. E il logaritmo in base 10 di un numero compreso tra 100 e 1000 sarà un numero compreso tra 2 e 3. Se non moltiplicassimo per 10 avremmo il bel, semplicemente, che però non piaceva forse troppo grande e moltiplicando per 10 abbiamo un'unità 10 volte più piccola, quindi il decibel. Da notare che il minimo rumore udibile è 0 decibel, perché il logaritmo in base 10 di 1 fa 0, dato che 1 si può esprimere come 10 alla 0. Per cui 0 decibel non vuol dire silenzio assoluto, ma è il minimo rumore udibile. Si può anche andare in decibel negativi. Se avessimo 10 alla meno 13, va su metro quadro, avremmo meno 10 decibel, anche se non sono udibili, quindi non ha molto senso parlarne, perché è una grandezza fisica legata alla sensazione sonora. Mentre la soglia del dolore o dolore intenso è attorno ai 120-130 decibel e a questo livello si possono avere dei danni all'apparato uditivo, però possono anche creare danni ai livelli di intensità sonora minore, intorno ai 100 decibel, 90 decibel, se sono prolungati per molto tempo. Il video è terminato. Ti ricordo che si parla di onde e di suone di luce nella playlist F3. Se ti è piaciuto puoi salvarla e iscriverti al canale. Ciao!